Una buona giornata, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti alla rassegna stampa Occhio ai giornali. Come tutte le mattine da lunedì al sabato siamo in diretta alle 7.30 e poi in replica nelle varie edizioni sino alle 13.30, ultima programmazione disponibile, poi naturalmente su internet e anche su Facebook, lo ricordo, in diretta in questo momento. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e ci scrivono anche da ogni parte del mondo e ci seguono, chiaramente parliamo di fanesi o di gente del territorio che si sposta, che tutto il mondo per carità segua Fano TV in questo senso. Però ecco, è un servizio importante che pensiamo di fare anche a queste persone che sono del territorio e che magari occasionalmente anche per lavoro girano in tutto il mondo e continuano a seguire i fatti di casa propria. E cominciamo con il santo di oggi. Il tempo lo vedremo tra un attimo. Il santo è Sant'Alfonso Rodriguez. Il sole sorto alle 6.42 e tramonterà due minuti dopo le 17. Il tempo per questo martedì 31 ottobre sarà parzialmente nuvoloso, in particolare al mattino, poi ci saranno addensamenti nelle zone interne e un transito di nuvole stratificate altrove. Poi però le nuvole diminuiranno nel corso del pomeriggio lasciando spazio a delle schiarite. Le temperature sono in diminuzione, ci sono anche i venti di brezza tesa nelle zone dell'entroterra. Allora, domani primo di novembre, giorno di festività, domani la Chiesa ricorda tutti i santi, avremo una giornata di cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature in diminuzione soprattutto la notte, venti di brezza leggera o tesa sud-occidentali. Giovedì, giorno in cui invece si commemorano, si ricordano i defunti, il tempo sarà parzialmente nuvoloso, anche qui temperature in lieve aumento, non c'è granché da aggiungere. Il tempo sarà stabile fino alla giornata di sabato, poi ci sarà un probabile peggioramento nella giornata di domenica. Allora, andiamo a leggere i giornali adesso. Cominciamo dal Corriere Adriatico, il quotidiano delle Marche, ex alberghi da incubo, ultimatum, sicurezza. Questa è l'edizione di Pesaro, cornicioni caduti con il vento, il comune da dieci giorni per il restyling, per la sistemazione, oppure partiranno le multe. Poi la fotografia che lascia senza parole è quella che riguarda il territorio, il terremoto che ha colpito le Marche. Un anno dopo, ecco le foto impietose, tutto fermo nei borghi terremotati della Valnerina. Il titolo, tante parole per nulla, due immagini di largo corridoni a visso, il 30 ottobre del 2016 e un anno dopo. Guardate, non è cambiato quasi praticamente nulla, se non qualche spostamento di calcinacci che sarà andato giù evidentemente per forza gravitazionale. Per il resto, o con le intempere, per il resto nulla è cambiato. C'è Magnini, interrogato dalla procura, sereno dopo tre ore di audizione, dice il campione di nuoto, ho chiarito tutto quanto. E poi, lo vedremo tra un attimo, l'assessore fanese resta a piedi con l'auto del comune, affano un parco mezzi vetusto e senza benzina, mascarina, terza città delle Marche, dice ridotta, così. E poi la cronaca, io violentata nel bagno del centro commerciale, ma ci sono forti dubbi che cercheranno di chiarire adesso i carabinieri. La pagina di Fano dicevamo di questa esperienza che è accaduta all'assessore Samuele Mascarin, che è rimasto con l'auto del comune senza benzina. Mascarin rischia di restare a piedi, l'assessore era atteso dal ministro Fedeli ad Ancona e lui dice il parco mezzi del comune di Fano è allo sfascio, si faccia qualche cosa. Io, o meglio, in totale le macchine in dotazione sono 40 con bollo e assicurazione, ma molte sono inutilizzabili. E poi sulla questione dei figli da prendere a scuola, sapete questa circolare a livello nazionale del ministro, ebbene prendere i figli a scuola, ministro, qui a Fano lo fanno tutto da soli, nel senso che i bambini a scuola ci vanno da soli. C'è proprio un'iniziativa che ormai sono anni che c'è. Camperisti senza tetto in comune dovranno lasciare Viale Kennedy. La decisione, dopo le numerose segnalazioni alla municipale, andranno in un'area che però è ancora da individuare. Massimo Foghetti scrive questa mattina sul Corriere Adriatico, Alcuni di quelli che vivono in auto nella zona utilizzavano docce e bagni al Camposanto, che sta a due passi da lì. L'Africa chiama e in 19 rispondono da tutta Italia. Nel fine settimana la ONLUS fanese ha accolto i futuri volontari e dicono, si mettono in discussione. luci a LED, siamo sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico, luci a LED per il centro, le festività si accendono, proloco al lavoro insieme ai commercianti, corsa contro il tempo per la pista di ghiaccio. Mentre la buona notizia è per il Sant'Arcangelo, che riceverà dei fondi, Pesaro e Fano Unite hanno raccolto ieri, vedete il sindaco Seri con Ceriscioli, il sindaco di Senigallia, tutti con un assegno in mano, adesso qui la foto è tagliata, ma hanno tutti un assegno in mano, simbolico chiaramente, 2 milioni e 400 mila euro che verranno totalmente investiti nella riqualificazione della struttura di Corso Matteotti. E questo Sant'Arcangelo diventerà la fabbrica di Carnevale. La cronaca con quel terribile incidente, lo schianto ieri in autostrada, fermo con il furgone in panne, piomba un tir, muore in A14. La vittima, la vedete in questo riquadro pubblicato sul quotidiano delle Marche, la vittima è un giovane papà di 43 anni, shock a Iesi dove viveva. Urbino, lavori a Pontarmellina, il PD dice è merito nostro, accusi al sindaco, illustra come suoi risultati impostati invece e ottenuti da altri. I progetti di riqualificazione di Pontarmellina sono pubblicati in questa pagina, in questa fotografia, il processo era già stato predisposto dall'amministrazione precedente. Piante secche, sempre dal Corriere, dalla Valle del Cesano, a rischio caduta, ora il Comune ci dà un taglio. A San Costanzo le piante secche da abbattere in quanto potenzialmente pericolose per auto e pedoni sono in via tomba. Il Comune, in coordinamento con l'Ufficio Tecnico, ha inoltrato una lettera ai frontisti residenti nella via comunale e a giorni provvederà in maniera urgente con l'abbattimento delle alberature a rischio caduta. E poi, a proposito di vegetazione, di alberi, eccetera, teniamo conto anche del vento che c'è stato in questi giorni che ha scosso anche quelli che stavano lì per cadere. Albero in bilico, il torrente Rio diventa un caso, sopra luogo di un agronomo del Consorzio di Bonifica, ma gli argini sono da ripulire. Questa è la cronaca da Mondolfo, sempre dal Corriere Adriatico, la pagina di Senigallia, nuove telecamere, nuove spycam negli ingressi cittadini. Ma le vecchie telecamere sono spente, patto con la Prefettura per installare occhi elettronici al Cernin e sul Cesano. Fuori uso invece sono quelle della Cesanella. Poi qui c'è la fotografia di un blitz che è avvenuto ieri a Senigallia della polizia in un laboratorio cinese appunto nel quartiere di Cesano. Ora, il Giro d'Italia e la Tirreno Adriatico, parliamo di ciclismo, per ricordare Michele Scarponi. Michele Scarponi è morto, lo ricorderete, in un incidente avvenuto intorno alle 7.50 del mattino il 22 aprile scorso e adesso, visto che ci sarà sia il Tirreno Adriatico ma anche il Giro d'Italia, l'edizione 101, numero 101, ebbene la Caravana Rosa potrebbe partire proprio da Filottrano in questa dodicesima tappa dell'edizione numero 101 del Giro d'Italia, che tra l'altro Michele vinse nel 2011 a Tavolino dopo la squalifica per doping di Contador. Però a marzo c'è anche il circuito fino a Cantalupo per la frazione della Tirreno Adriatica in partenza da Fano. Quindi tutti, chiaramente lo Scarponi Fan Club fa il tifo perché questo avvenga e si possa quindi ricordare questo grande campione scomparso. La pagina invece del Corriere Adriatico di Pesaro, e qui apriamo le numerosissime pagine pesaresi del Corriere Adriatico, un Corriere Adriatico che ha tante pagine anche locali su Pesaro, e anche ben fatte direi, ma questo è un pensiero che ho già espresso molte volte. Hotel pericolosi, l'ultimatum 10 giorni per adeguarsi, il Comune interviene dopo i cornicioni caduti per il vento dai vecchi alberghi Principe e Lido, l'assessore delle noci, sul decoro e la sicurezza avevamo visto giusto, la rabbia di Pinoli, sono a rischio. Il titolare del Vittoria dice, se quella tavola avesse colpito una persona, l'avrebbe tranciata in due. Si fa riferimento chiaramente al vento forte dei giorni scorsi e al fatto che questi alberghi sono un po' lì, sono così così, stanno su per miracolo, adesso sto esagerando chiaramente. Sul doping ho chiarito, dice Filippo Magnini, e lui dice, sono sereno, c'è stata questa audizione fiume per il campione, tre ore e mezza, rischia una squalifica di due anni, l'indagine è sul presunto uso di anabolizzanti, è stato contestato anche il favoreggiamento. E poi c'è quella questione di quella donna che a un certo punto si è vista entrare nelle immagini delle telecamere registrate all'interno dell'ipermercato Ipercopa a Pesero, di quella donna che dice, sono stata violentata nei bagni, dentro il centro commerciale. È un'accusa pesante, è l'accusa di una giovane che adesso è ricoverata in ospedale, i carabinieri fermano un immigrato che però nega e dice, ma io non ho violentato nessuno, questa donna di 30 anni era consenziente, tant'è che appunto da una prima ricostruzione, guardando le immagini della telecamera, pare appunto che sia entrata insieme tranquilla, sia uscita insieme a lui tranquilla. Ora è tutto da capire il perché e il per come. Comunque questo è il titolo e la cronaca dettagliata di Luigi Benelli sul Corriere Adriatico di questa mattina. Una storia un po' dai contorni ancora poco chiari, su cui si stanno raccogliendo elementi. E poi l'altra notizia che potrete leggere nei dettagli qua sotto, sempre il Corriere Adriatico, trova cellulare e chiede riscatto, dammi 100 euro se rivuoi il tuo cellulare, l'uomo è stato arrestato dai militari dell'arma per tentata estorsione. Ancora da Pesaro, i mosaici del Duomo non verranno spostati, Vimini dice un pavimento speciale per vederli, l'assessore alla cultura allo studio di una soluzione tecnologica e anche economica, e quindi non ci sarà nessun trasloco di questi mosaici. Sulla pagina del Valle del Cesano, statua della Madonnina rubata da un'edicola, parte la denuncia, atto sacrilego, dibattito a terre roveresche sul furto avvenuto l'altra sera. È un gesto veramente infame, scrive il Corriere, è un'anime, la condanna, il furto, come è stato scritto ieri, è avvenuto all'incrocio tra via Pozzaccia, Bruciata, e via Tre Ponti, nel municipio di Barchi. Non solo dolce scherzetti, così Halloween diventa friendly, le iniziative non si limitano ai bambini e cercando di superare le polemiche. Tavuglia è la terra dei campioni, l'orgoglio del sindaco Paolucci per il titolo conquistato da Morbidelli in Moto2, ora festa a Babucce, nel quartiere di Pesolo, la commozione dell'ex pilota Mancini, che l'ha scoperto con Franco, ho fatto poker e aspetto fenati. L'ultima pagina del Corriere Adriatico, Vallefoglia divisa in quattro per rafforzarsi, nascono i consigli di quartiere ripartiti tra Colbordolo, Morciola, Montecchio e Sant'Angelo in Lizzola, Ucchielli, sindaco di Vallefoglia, nominerà i 24 componenti, i candidati possono presentare la domanda entro il 20 di novembre. Vogliamo, dice Ucchielli, incentivare la partecipazione alla gestione della cosa pubblica. E poi sotto il dolore di Monte Felcino per la morte del cacciatore, il ricordo degli amici, non ancora fissata la data delle esequie. Apriamo adesso invece il Carlino. Magnini sotto Torchio. Questa è la fotografia. Il nuotatore pesarese è sentito per circa tre ore ieri a Roma dalla procura antidoping. Lui dice, ho chiarito tutto, ho detto all'uscita prima di lui l'interrogatorio fiume per Michele Santucci. C'è stato un incidente, batte la testa in bagno e muore una donna di 74 anni e poi la denuncia di una ragazza di 30 mi ha violentata nei bagni. Tutte notizie che abbiamo già visto nel Corriere Adriatico. La pagina di Fano del Carlino, un attore in fondazione, entra Simoni, eletto socio all'unanimità. Nel 2018 aumentano i soldi, ecco a chi andranno. Messi a riserva 200 mila euro per l'impianto sportivo, per il sociale 250 mila euro. Caro Don Germano, ti abbracciamo. La lettera aperta, parliamo di questo sacerdote, Don Germano Montesi, che in un solo anno è stata la guida della unità pastorale di Montelabatte e Apsella ha conquistato i cuori dei parrocchiani e che ora nel profondo dispiacere di vederlo trasferito a Villa Fastigi gli dedicano una lettera molto bella pubblicata tra l'altro qui dal resto del Carlino. Poi l'altra pagina, quella di Fano del Carlino, anch'io sulla collina del Rosario, il caso del gruppo di preghiera autonomo a Rosciano. C'è un'intervista questa mattina a Fabrizio Schiavoni, il segretario generale della Camera di Commercio, che è anche un cultore ed appassionato di apparizioni mariane. Il tartufo, il tartufo non solo fresco, tornano le salse, è chiaro che tornano le salse perché il tartufo fresco non c'è, prezzi record, Emanuela Marini rilancia la famosa bianca di Acqualagna, mentre sotto per Halloween solo divertimento, da Urbino nessun fanatismo, alla Ludolteca giochi e sorrisi. E poi invece ad Acqualagna, Ruscella d'oro a Bruno Capanna, come aver vinto l'Oscar, dice lui, c'è questo riconoscimento che gli è stato consegnato e quindi è soddisfatto, chiaramente non poteva essere che così. Urbino, scontro politico sui lavori a Urbino 2, Gambini, dobbiamo riparare ai danni fatti dal Partito Democratico, dura la replica del PD, la ricostruzione che fa il Partito Democratico è la vecchia amministrazione con l'ungimiranza era riuscita a mettere d'accordo gli enti. L'ultima pagina è per questo tesoro nascosto, questo tesoro sotto i piedi a terre roverische, che siamo nel municipio di Barchi, spuntano grotte nelle fondamenta del Palazzo Ducale. Lo studioso Polverari rivela l'esistenza di un gioiello di architettura. Le notizie più importanti ve le abbiamo lette, i titoli sono quelli che vi abbiamo appena detto, la rassegna torna domani mattina, stasera invece c'è il telegiornale Occhio alla Notizia alle 20.30, da cui seguirà la lunga notte di preghiere in diretta dalla cappellina della Divina Misericordia che abbiamo qui nei nostri studi tutta la notte, ogni ora, fino alle 7 di domani mattina. Saremo in diretta appunto dalle 21 alle 7 di domani mattina. Mi fermo qui, per le vostre segnalazioni avete visto anche il nostro numero di telefono. Ci vediamo stasera, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.